Nel campo delle analisi di convenienza, una scelta molto importante riguarda il make or buy. Il make or buy, lo dice il nome stesso, è l'alternativa tra produrre internamente oppure acquistare da un fornitore esterno. Per poter effettuare questa scelta ci sono sicuramente valutazioni di tipo strategico, di tipo qualitativo, di tipo logistico, che sicuramente bisogna considerare. Oggi nella nostra piccola simulazione ci baseremo su valutazioni eminentemente di tipo economico, però con l'avvertenza che tali valutazioni dovranno essere completate all'interno degli altri elementi che ho test citato. Ebbene, come si può vedere dall'esempio, per poter effettuare l'analisi make or buy bisogna mettere a confronto i costi interni rispetto ai costi esterni dell'azienda. Normalmente quando si effettua questo tipo di analisi si va a fare la somma dei costi interni che ha l'azienda, nel nostro caso pari a 140, e per produrre lo stesso prodotto da un fornitore esterno lo vado a pagare 85. Dal confronto 140-85 risulterebbe subito evidente che è più conveniente acquistare da un fornitore esterno. Ebbene, questo tipo di valutazione sarebbe assolutamente errata. Perché non andiamo a confrontare due configurazioni di costo che sono tra di loro omogenee. Perché? Perché quando facciamo il confronto tra costi interni e costi esterni dovremmo anche capire quali sono i costi che, anche se io cominciassi ad acquistare fuori, comunque in ogni modo dovrei sostenere. E quindi io potrei arrivare ad una soluzione di confronto in maniera omogenea, solo se io ai costi esterni, nel nostro esempio pari a 85, vado ad aggiungere anche tutti i costi interni che io avrei comunque, in ogni caso, se io cominciassi ad acquistare dal fornitore esterno. E normalmente quali sono questi costi? Sono i costi indiretti, i costi fissi, tutti quei costi che quindi io non posso eliminare facendo questa scelta di convenienza. Quindi se io vado quindi a paragonare il costo pieno nel caso di produzione interna, 140, e il costo pieno nel caso di produzione esterna, pari a 145, risulta abbastanza evidente che, confrontando i due costi pieni, mi conviene di più produrre all'interno anziché acquistare all'esterno. Qui abbiamo effettuato il paragone tra le due configurazioni di costo andando a costruire il full costing, sia nel caso di soluzione interna, sia nel caso di soluzione esterna. Un'altra metodologia molto più snella non è quella di costruire i costi pieni, ma andare a effettuare un'analisi differenziale, e cioè andare a paragonare i costi cessanti rispetto ai costi sorgenti. In questo caso qui io vado ad esaminare quali sono e quanti sono i costi che io andrei a risparmiare nel caso in cui chiudessi la produzione interna e sono eminentemente costi di tipo variabile, di tipo industriale, e quali sono i costi che mi sorgerebbero, costi sorgenti o chiamati costi incrementali, che io dovrei sostenere se facessi la produzione esterna. E anche qui mi rendo conto che andando a eliminare la produzione interna, i costi che si vanno a risparmiare sono 80, se invece vado a effettuare la produzione, l'acquisto esterno, sono pari 85. Quindi ancora una volta vado a concludere che è molto meglio continuare a produrre internamente, anziché acquistare esternamente. Sul tema make or buy, al di là delle valutazioni di tipo contabile e di tipo finanziario effettuate andando a paragonare le due tipologie di costo, devono essere ovviamente effettuate delle altre analisi di tipo strategico riguardanti la flessibilità della struttura aziendale. Perché se è vero che spesso e volentieri conviene effettuare le produzioni internamente, è altresì vero che la produzione interna comporta un maggior grado di rigidità da un punto di vista operativo aziendale. E questo deve essere ovviamente ben ponderato dall'azienda stessa. Possiamo infatti affermare che se è sempre conveniente tenere le produzioni interne che riguardano il core business aziendale, delle valutazioni caso per caso debbono essere effettuate in merito a quelle lavorazioni o a quei trattamenti o a quelle attività che pur rientrando nell'attività aziendale non fanno parte del proprio core business. Grazie a tutti.